Siamo in completo controllo della situazione, Luca Moscardino ha il combattimento da circa 10 minuti con un tonno stimato a mio modo di vedere sui 60 kg, tonno già abbastanza Sto stanco, siamo alla seconda fuga, ha fatto la seconda, ho sentito, adesso siamo quasi pronti, beh, seconda fuga, mediamente ne fanno tre e poi sono morti, sei già un po' stancato Ci faccia vedere l'espressione del volto, signor Boscarino, grazie, nessun orgasmo nella vita dà la sua soddisfazione Grazie 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 Prodiciamo Ora faccio il tuo! Non lo vede il tono? Non lo vede il tuo! 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 Quando raffio, rifrendo io! E vedi tu quando raffio, ok? Io raffio! Sì! È difficile che cosa? Sì! Vieni! Va bene! Negativo! Sì, ciao! Ah, 25! Sì, ok, ok! 20! Ci penso io! Via, via, via! Sì, 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 via! Guardalo via! Io ho il motore a sinistra! Il motore a sinistra! Ok! Così, basta! Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non prendere mai il terminale. Tua schiena? Sono legato. No, attira. Vai. Vai, ce l'hai. Bravissimo. Oh, ballo! Grandi! Grande. Ragazzi, questo è sushi. Se vuoi te lo pulisco in banchina come fanno la scena. Si è piegato il raso. Si è piegato il raso. Si, si, si è piegato il raso. Sessi metto. Questa è bello, ragazzi. Primo tonno col tendine riparato. Ha, ha!